Mortaretti e razzi comandati, verrebbe da dire. Il 31 si avvicina e con la fine dell'anno vecchio l'ingresso del 2023 torna in molti, in troppi, la voglia del botto. Una consuetudine un po' anacronistica, in parte concessa da normative che autorizzano l'utilizzo di piccoli fuochi legali, riconoscibili attraverso etichette anche dai non addetti ai lavori, che però arreca disagi complessi all'ambiente per le emissioni di sostanze inquinanti e per i residui che inevitabilmente restano sparsi sulle strade dove capita. C'è poi un guai un po' più grande, il disorientamento che il rumore provoca negli esseri umani, pensiamo agli anziani, ma anche agli amici a quattro zampe. Le reazioni spaziano dallo spavento alla fuga, è il pericolo e che nella corsa un animale possa attraversare una strada e causare un incidente. Cosa si può fare oltre che affidarsi ai singoli comuni che ogni anno invitano i cittadini con un'ordinanza che vieta di fatto i botti e che poi vengono regolarmente esplosi? Anche le lanterne cinesi che sembrano innocue e fatte spesso volare in cielo possono causare il ferimento e la morte di animali e incendi boschivi. Per le amici a quattro zampe, l'OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ha condiviso poche regole che però servono a proteggere gli animali. Teniamoli lontani dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi. Non lasciamoli soli e mostriamoci tranquilli, magari per capodanno, facciamoli entrare dentro casa anche se abitualmente stanno fuori. Lasciamo che si rifugino dove preferiscono. Evitiamo soluzioni fai da te somministrando tranquillanti. Alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico. Da non dimenticare anche il pericolo dei botti illegali che ogni anno causano vittime, è il caso di dirlo e spesso si tratta di giovani.